Qui a Garesso prima ci sono svolte le vaccinazioni over 80 organizzate dall'ASL, con personale ASL, in due sessioni, la prima sessione e poi quella del richiamo. Oggi abbiamo fatto oltre 200 persone e quindi quasi la totalità dei 70-80, questa volta l'organizzazione del comune di Garesso insieme con i medici di medicina generale. E vorrei anche fare un particolare ringraziamento al personale dell'Opera Pia Garelli, che a partire dalla direttrice Raga Dalforno, poi infermiere e Osta hanno dato una grande mano senza la quale probabilmente non sarebbe stato possibile. L'idea adesso è di continuare con le vaccinazioni, con le categorie consigliate dalla regione e quindi probabilmente 60-70 e così via. Se è possibile continuarle qui a Garesso nell'idea proprio della nuova medicina territoriale, cioè di avvicinare le persone al territorio e non spostare i pazienti in gli ospedali.